Musica Parliamo nuovamente del buon Michael Crizzo che secondo me si sta imponendo come uno dei migliori, se non il miglior bodybuilder europeo al momento E sta continuando a pubblicare degli aggiornamenti davvero mostruosi per quanto riguarda la definizione, la pienezza muscolare in vista della gara che farà in Spagna tra poco meno di due settimane Come detto ne parlo perché sta continuando a pubblicare aggiornamenti e secondo me sono aggiornamenti molto convincenti Non sono solo foto ma sono anche video dove comunque è un po' più difficile mettere filtri, luci perfette, modificare tutto quanto Quindi secondo me sono davvero degli aggiornamenti incredibili, sono curioso di verlo sul palco perché secondo me vedremo la sua miglior condizione ad oggi Chiaramente non ha gareggiato tantissimo a livello pro perché pro dà un annetto però secondo me vedremo la condizione a livello di definizione come non l'abbiamo mai visto Poi chiaramente ha dei punti deboli come dico sempre che sono la schiena che come dico sempre per i bodybuilder che su Instagram non fanno vedere i punti deboli Non fa vedere perché secondo me ha qualche difettuccio a livello di schiena I dorsali lo stesso frontalmente non sono eccezionali perché come ho detto miliardi di volte secondo me le braccia rubano il lavoro dei dorsali e della schiena in generale Poi la vita non dico che sia larga però si sta allargando un pochino Ha sicuramente dei punti deboli quindi vedremo anche come si comporterà presti contro Crizzo che secondo me si sta avvicinando molto bene a questa gara Contando anche che ci saranno molti mesi dalla gara al mistero olimpia quindi vedremo un po' Un altro punto debole sono i glutei sicuramente che sono un po' piccolini qui figurano molto C'ha un femorale fantastico però poi non ci sono glutei quindi molto sproporzionato sotto questo punto di vista Passando al nostro Ian Valliere di cui si è parlato molto in questi giorni per questo buco sospetto al petto Che ogni tanto succede ad alcuni bodybuilder e a altre gente che fa pesi Come volevasi dimostrare il bodybuilding come ho detto molte volte non è chiaro Non dico per forza che sia corrotto però l'ho detto molte volte e la gente mi dice sempre ma no Vince sempre migliore e trova sempre il pelo nell'uovo per giustificare la vittoria di un bodybuilder Rispetto a uno che poteva essere secondo me il favorito come è successo in questo caso tra Ian Valliere e Sam Mostafa Questo è un video che ha fatto Ian Valliere dove spiega che non ha nessun danno nervoso Spiega che non ha subito nessun infortunio al petto così come non l'ha subito nella schiena Quindi è una sorta non dico di mea culpa però tende sempre a spiegarsi e a essere sulla difensiva il buon Ian L'ho detto molte volte se mi seguite da un po' C'è sempre qualche polemica in corso nella vita di Ian Valliere Alcuni hanno detto che non ha mai vinto uno show in maniera convincente Questo non lo direi però è sicuramente un bodybuilder che ha sempre avuto alcuni punti deboli Che si stanno aggiungendo ad altri come la schiena, il petto E' un bodybuilder che si sta un po' sciogliendo secondo me Sono un po' una candela che si sta sciogliendo o un palloncino si sta sgonfiando Queste sono delle foto pre-Toronto Pro Chiaramente luci perfette, angolazioni perfette Ma Ian ha anche delle ottime pose Le pose laterali secondo me sono molto buone Come questo side tricep Se non consideriamo il tricipite che è quasi inesistente Come dicevo questo tra l'altro è il confronto con Sam Mostafa Qui vedete il petto un po' bucato Nel bodybuilding c'è sempre quel quadra che non cosa Qualcosa che non torna E la gente viene sempre a dire che non ci capisco un cazzo Che sono complottista bla 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 Poi però quando ci sono le gare ce ne sono state 4 o 5 Quest'anno secondo me più della metà hanno avuto un esito discutibile E poi leggo anche nei commenti nei miei video Che la gente comunque la pensa più o meno come me Non credo che io influenzi così tanto le persone Non è da avere tutti dalla mia parte Dalla mia parte tra virgolette Però succede troppo spesso che qualcosa non torna E poi Ian qui è una schiena migliore sicuramente di Hassan Per quanto riguarda magari densità e definizione Non tanto per simmetria Però Hassan secondo me è la superiore E dicevo c'è sempre qualcosa che non torna Quindi non è che sono io complottista Non è che sono io che non ci capisco un cazzo Ogni volta c'è un vincitore che Non sempre merita di vincere In questo caso secondo me meritava Hassan Perché è più completo Ha meno punti deboli Ok è meno definito però Cioè Non mi convince questa vittoria Non ha convinto altri Altri dicono Eh sì ma è il colpo d'occhio più estetico Bla bla Sì o che ci può stare il colpo d'occhio più estetico Però poi se lo vai ad analizzare Polpacci non ce ne sono Tricipiti non ce ne sono Buco nel petto Asimmetria Nei Nei dorsali Soprattutto a sinistra Lower back che sta Sparendo Sì è più definito Magari è un colpo estetico migliore Però nel complesso Ha più punti deboli E nel bodybuilding Dovrebbe vincere Il bodybuilder più completo A parità di una definizione Accettabile E secondo me La definizione di Hassan Era più che accettabile Non era drag esposing Non era la definizione D'Oriane Yates Nel 96 Al German Grand Prix Se volete andare a riguardarla Però Cioè Secondo me È una ladrata questa Guardate il petto di Ian Valliere Tricipiti non ce ne sono Polpacci non ce ne sono Come detto Dorsali Stanno sparendo La definizione Cioè Il colpo d'occhio Più estetico Tra virgolette C'era però Un'altra Vittoria Un po' Così Nel Nel bodybuilding Io come ho detto Mi sono Stancato Di cercare Di dare spiegazioni Alle vittorie Alle gare Perché c'è gente che Ogni volta che vince qualcuno Ah si ha vinto Perché bla bla E trova il pelone L'uovo Anzi non è che lo trova Lo cerca Perché Per trovarlo Bisognebbe essere Molto bravi Secondo me Ormai Si va avanti Per blasone Per notorietà Per un'altra serie Di fattori Che vanno anche Oltre Il fisico Ian secondo me È un buon bodybuilder O era un buon bodybuilder Però Siamo arrivati a un punto Finale Secondo me Della sua carriera Perché questo Problema al petto Non lo risolverà più Come non risolverà I problemi Alla schiena Ovviamente Lo risolverà I polpacci I tricipiti Quindi da qui Secondo me Si può solo peggiorare L'unica cosa Che può migliorare È la definizione Che comunque Era già Molto buona Quindi non vedo Un futuro Meraviglioso E splendido E luminoso Per Ian Buona E splendido E l'unica cosa 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 Grazie a tutti.